Buongiorno a tutti, siamo qui con il vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo. Professore, quali sono le novità dal punto di vista politico di questa settimana? Sicuramente la novità più importante è che proprio questa settimana prenderà avvio presso la commissione bilancio della Camera l'esame e la discussione della legge di bilancio per il 2023. Per il momento siamo in commissione, ci sono per ora solamente in programma delle audizioni, per esempio quella all'Istat, quella al CNEL, il Consiglio Nazionale Energia e Lavoro, ma il lavoro vero e proprio inizierà solamente sabato 10, perché in quella data la commissione si riunirà per iniziare proprio l'esame del provvedimento. Nei giorni precedenti scadono già anche i termini per presentare gli emendamenti, quindi sarà una settimana importante per capire come potrà andare avanti questa legge di bilancio, che come sappiamo, almeno nel mondo della scuola, è parecchio discussa. Invece dal punto di vista sindacale, cosa dobbiamo aspettarci? Dal punto di vista sindacale c'è una scadenza interessante che, guarda caso, è collegata proprio con la questione della legge di bilancio, perché domani 6 dicembre e dopo domani 7 dicembre il ministro incontrerà le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della scuola, domani 6 e rappresentative dei dirigenti scolastici il giorno 7. E stando appunto a quanto sappiamo in questo momento, si discuterà esattamente delle misure contenute nella legge di bilancio o di quelle non contenute. Fra le misure contenute, come sappiamo, c'è proprio quella del dimensionamento della rete scolastica, che è molto contestata dai sindacati ma anche dai dirigenti scolastici e fra le misure non contenute c'è quella, per esempio, sul precariato che tutti aspettavano ma di cui appunto non si parla. Invece ci sono delle ricorrenze particolari questa settimana per il mondo della scuola? Sì, questa settimana, esattamente il 10 dicembre, c'è una ricorrenza importante. È la giornata mondiale dei diritti umani che si tiene appunto in tutto il mondo, tutti gli anni, e questa data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che avvenne proprio il 10 dicembre del 1948, quindi esattamente 74 anni fa. Questa ricorrenza può rappresentare l'occasione per parlare di questo tema con i ragazzi, soprattutto con quelli più grandi, quindi sicuramente nelle secondarie di secondo grado, ma si può trovare la modalità per parlarne anche ovviamente con i ragazzi più piccoli, perché questo è un tema che ci riguarda tutti ed è un tema su cui è bene riflettere. Bene, bene, grazie al Vice Direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, per queste risposte e un saluto a tutti, alla prossima! Grazie a tutti!